buongiorno a tutti e benvenuti nel tutorial di Gcad e vediamo adesso la caratteristica principale quindi una delle novità principali della nuova versione è appunto la gestione grafica che è stata completamente rinnovata e di fatti qui possiamo notare che c'è una gestione adesso relativa a schede ribbon e rispetto alla versione precedente è possibile appunto notare una notevole differenza di disposizioni dei vari menu innanzitutto abbiamo quello principale di gestione dove io posso scegliere di creare un nuovo progetto aprire salvare e importare determinate dati oltre alla gestione di stampa inoltre qui abbiamo la possibilità di visionare i diversi menu suddivisi per menu home dove troviamo le funzioni di disegno di editor ovviamente di annotazione gestione layer attività di creazione e modifica blocchi gestione delle proprietà degli elementi Gcad gestione dei gruppi e poi abbiamo delle funzioni di utilità dove troviamo appunto le funzioni di misura converti raster e gestione copia appunti copie proprietà degli appunti poi abbiamo la sezione inserisci che legata strettamente alla gestione della definizione di editor di attributi e editor blocco eventualmente eventuali allegati o importazione documento pdf il testo gestione di annotazione quindi testo molti testo proprietà del testo strumenti 3d una delle novità appunto introdotto quella per quanto riguarda la gestione della strumentazione delle funzionalità di modellazione 3d la gestione della visualizzazione quindi è stata attivata la possibilità di avere appunto una visualizzazione anche del UCS personalizzato dell'ecosistema di coordinate l'attivazione o meno dell'orbita e gestione delle viste quindi possiamo attivare quello che il cubo tridimensionale quindi possiamo e abbiamo integrato quelle che sono gli strumenti di visualizzazione 3d la gestione ovviamente delle nuova lozze delle proprietà riferimenti esterni dimensioni immagini il modulo doc fa e poi una sezione dedicata a la gestione della stampa quindi di esportazione nel formato doc fa o pdf o file d'altro tipologie di file e poi abbiamo anche la gestione della stampa le altre distante in più c'è il menu help dove è possibile appunto gestire quelle che sono le funzioni di autosalvataggio eventualmente scaricare quelli che sono librerie dei blocchi 2d sappiamo criticato contiene quelle che sono i blocchi e ovviamente eventuale assistenza e aiuto per quanto riguarda quello che è il l'utilizzo del software con annesso anche la gestione della tele assistenza e l'apertura di un ticket di assistenza questo è una gestione nuova del menu ribbon ovviamente è possibile sempre passare alla gestione del del menu classico infatti basta cliccare qui nell'iconcina in alto a sinistra e automaticamente il programma si va a predisporre con un menu classico dove io posso poi gestire quelle che sono le varie finestre e menu di gestione senza come era presente punto le versioni precedenti ovviamente si è dato più un'impronta grafica rinnovata quindi adesso attualmente il software della versione 2024 si aprirà con la gestione ribbon